Sabato prossimo, 24 novembre, Filippo Paganini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Liguria, presenterà alla Spezia presso la Mediateca regionale di Via Firenze la sua ultima fatica, i giorni del 68 tra Cronaca e Storia Spezzina. Sarà intervistato dai colleghi Franco Antola, Amerigo Lualdi e Riccardo Sottanis in un incontro aperto a tutti. Questo libro è un libro sull'anno 1968 che attraverso la rilettura delle cronache dei giornali locali tende a ricostruire tutta la società spezzina, quello che succedeva, come si mangiava, dove si dormiva, quali erano i prezzi degli alberghi, ma anche i grandi personaggi, le figure tipiche di Spezia di quegli anni, da Giugionabossa fino al Maestro Lazzone, al Francesino, era una spezia completamente diversa, la provincia aveva 121 mila abitanti, la città più grande e la vita era completamente diversa. Si viveva, per esempio, il cuore della città era Via Chiodo, i giovani facevano le vasche dalla parte del mare, diciamo così, di Via Chiodo, quelli un pochino più grandi e celli invece sotto i portici. C'erano locali che forse oggi nessuno ricorda, come il Play Club, dove oggi c'è la Banca Toscana, o Montepaschi, oppure i bar Caracas, Castagnetto. C'erano grandi fatti anche di cronaca nera, il delitto della vedova di Ceparana, per esempio, oppure il delitto a Marinella, era stato ucciso un radiologo lombardo, non si sape mai chi è stato, un delitto che è rimasto irrisolto, ma accanto a queste cose c'erano ovviamente anche i fatti di quell'anno, le grandi contestazioni nelle scuole che erano cominciate al liceo scientifico a febbraio con uno sciopere d'occupazione del liceo. Insomma, è una ricostruzione per chi c'era, io avevo 13 anni, facevo 14 anni alla fine del 68 e chi invece non c'era è che magari è un po' curioso di sapere com'era la vita 50 anni fa. Si parla, non so, del carosello che era molto importante in televisione, dei programmi televisivi, degli svaghi. A Spezia c'erano 21 sale da ballo e c'erano 25 cinema in tutta la provincia. E quindi è una storia abbastanza, credo, interessante insomma. Vogliamo ricordare quando l'evento? L'evento è sabato alle 17, presso la Mediateca, cioè l'Exodeo. Non è casuale che sia un ex cinema di questa città, insomma in Mediateca. Ne parleremo con Riccardo Sotanis, che è un grande collega che lavora in questa televisione, Franco Antone e Amerigo Lualdi, con tre colleghi, proprio perché il taglio è più giornalistico, nessuno ha la pretesa di fare dei saggi storici o ideologici.